un saluto a tutti gli amici in linea e benvenuti nel resoconto della prima settimana del mese di ottobre 2016 come vedete dalla grafica una settimana positiva una settimana che ha visto tre trade totali il lunedì il martedì e il giovedì mercoledì e venerdì invece non ci sono state occasioni per poter operare a mercato lunedì quindi trade chiuso in profitto ne abbiamo sia la percentuale con il rischio basso e sia con il rischio medio l'1% con rischio basso di guadagno e il 2% con rischio medio di guadagno stessa identica situazione che si è verificata martedì con un trade chiuso in profitto l'1% guadagnato con il rischio basso e il 2% guadagnato con il rischio medio come detto mercoledì non ci sono stati segnali giovedì un trade chiuso in profitto mentre venerdì non ci sono state nuove operazioni per un totale fino a questo momento in questo mese del 3% col rischio basso e del 6% con il rischio medio ma abbiamo visto come è successo del resto nel mese di settembre che fino all'ultimo per giudicare un mese bisogna attendere mese di settembre che si è chiuso comunque con un risultato positivo ma fino all'ultima settimana il risultato era veramente molto eclatante molto importante sarebbe anche potuto andare a battere il record di percentuale positiva di questo 2016 appartenente al mese di gennaio con un 9% col rischio basso e il 18% col rischio medio di profitto nel mese di gennaio invece poi l'ultima settimana è stata una settimana faticosa che comunque ci ha permesso di chiudere anche il mese di settembre in maniera positiva con un risultato che di fatto ci fa vedere il nono mese positivo in questo 2016 questa era invece la prima settimana del mese di ottobre settimana dalla 3 al 7 ottobre 2016 ribadiamo con calma quello che è accaduto con il lunedì un trade chiuso in profitto martedì un trade chiuso in profitto mercoledì nessun trade eseguito giovedì un trade chiuso in profitto e venerdì nessun trade eseguito questo è tutto per quanto riguarda questa settimana l'appuntamento ovviamente è alla prossima settimana per quanto riguarda il nuovo resoconto della seconda settimana del mese di ottobre io vi ringrazio per la cortese attenzione ovviamente vi do appuntamento al prossimo video